ciao a tutti benvenuti alla rassegna stampa di scazzo moderato scusate se c'ho già la ridarella ma la notizia di oggi sono quelle notizie in cui io proprio ci sguazzo cioè quando quando leggo queste cose mi sento come cruciani alla zanzara quando riceve la telefonata di un camionista e già goda il pensiero delle delle castronerie che potrà dire quell'uomo perché ovviamente cruciani essendo un genio del trash gode io invece io invece godo quando vedo queste notizie che 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 sono l'esempio concreto della della totale follia della totale in realtà e della totale incoerenza e inconsistenza che c'è in questo momento nella sinistra internazionale tanto in quella americana che in quella italiana e vi darò quindi due notizie a partire da quella italiana proprio su questo argomento ora come avete visto dal titolo dell'immagine che avevo messo a titolo di questo di questo video trans contro lesbiche cioè allora è successo che l'associazione un'associazione di lesbiche bolognese ha fatto dei commenti negativi verso il famosissimo decreto legge zan io ho fatto anche tre video per spiegare per chiaro contrario e loro che sono un'associazione di donne hanno fatto a loro volta alcuni commenti perché la legge zan si capisce molto bene su certi argomenti dove va a parare ovvero sul fatto che in qualsiasi momento un uomo legittimamente attenzione secondo me un uomo o una donna che non si sentono bene nel loro corpo vogliono cambiare sesso a fare loro perfetto benissimo però rimani sempre un uomo nel corpo di una donna o una donna nel corpo di un uomo pertanto non sei non puoi pensare di essere al cento per cento dall'altra parte perché ci saranno sempre dei limiti oggettivi specialmente per le transfemmine come come abbiamo spiegato uno degli esempi più chiari più ovvi più lampanti più insindacabili per chiunque non abbia il cervello anacquato è il fatto che un uomo malgrado poi si senta una donna si vesta da donna prenda anche gli ormoni faccia anche l'operazione non può andare a competere in una gara sportiva contro delle donne che sono nate donne perché vai a distruggere uno dei concetti principali dello sport che deve essere quello di una competizione leale fra persone che hanno tutta la stessa possibilità di vincere poi quello che si è allenato di più vince non quello che nasce già con un corpo molto più performante e le brutte cattive e transfobe lesbiche dell'associazione arci lesbica di bologna avendo fatto presente che magari alcune cose del decreto zan andrebbero cambiate prima della discussione finale quindi della eventuale approvazione si sono trovate la sede della loro cioè scusate la porta della loro sede vandalizzata da alcuni trans i quali hanno scritto arrabbia trans arci stronze quindi ci sono evidentemente dei trans a bologna convinti che le lesbiche siano delle arci stronze e pertanto come mi insegna la sinistra loro sono portatori di odio quindi sono omofobi perché le lesbiche sono omosessuali quindi il trans che odia le lesbiche è omofobo è bellissima questa cosa però come dicevo è l'esempio perfetto e concreto di come la cultura di sinistra si basi sull'odio viscerale per qualsiasi argomentazione tu non sia perfettamente d'accordo a chi ha già deciso qual è la società perfetta alla quale tutti noi ci dobbiamo prostrare altrimenti siamo automaticamente trans foboi o razzisti o suprematisti o populisti o quello che vi pare che vi pare finisce con isti cioè quelli che da anni danno dei cattivi e violenti agli altri sono in verità quelli che addirittura se la prendono con gente che dovrebbe essere della loro stessa fascia politica non appena dicono sì ok è tutto bene ma dovremmo un attimino migliorare un paio di cose ah no allora anche tu sei razzista omofoba eccetera anche le lesbiche sono transfobiche è qualcosa non niente non ci sono non ci sono con la testa e a proposito di gente che non c'è con la testa vi faccio vedere la fotografia di questa ragazza che si chiama Sara Silverman la quale ha fatto tutto un podcast un paio di giorni fa questa è un'attrice americana famosa attenzione eh cioè se guardate la pagina wikipedia guardate qui la lista dei film che ha fatto ha partecipato anche a dei film molto famosi come Tutti i pazzi per Mary o per esempio vediamo la via della violenza eh Heartbreakers questo l'ho visto ehm i Muppet l'ho visto cioè ci sono vari School of Rock non so se ve lo ricordate School of Rock è anche un bel film quindi veramente famosa la quale ha fatto un podcast lei che è una donna questa è un'immagine del podcast per dire che Caitlyn Jenner ovvero la trans che sta cercando di correre alle elezioni della California per diventare il governatore della California ma non lo fa coi democratici lo fa coi repubblicani avendo detto che lei difenderà lo sport femminile quindi nelle gare sportive femminili ci saranno solo le femmine e non i maschi quindi automaticamente è anche lei una transfoba quindi abbiamo una donna che accusa un trans di odiare i trans non solo e di non capire niente di sport quando questa trans a differenza della tipa qua che probabilmente nella vita avendo fatto ha fatto tutt'altro questa trans Caitlyn Jenner è stata quando era uomo atleta olimpico medaglia d'oro atleta professionista faceva il decathlon che è una delle discipline più dure in assoluto ti fai un mazzo tanto forse ne capisce un pochino di più di sport forse ma secondo Sarah Silverman l'attrice di Hollywood e abbiamo visto come a Hollywood ormai anche lì sono completamente usciti pazzi quindi se ti permette di dire che lo sport delle donne dovrebbe essere difeso e mantenuto solo per le donne sei uno che ho dei trans anche se sei tu stesso trans follia siamo alla follia completa ragazzi spero che questo video vi abbia dato qualche informazione interessante e anche un po' divertente perché quando vedi questa gente pensi vabbè ma c'è di matti e c'è un bel po' in giro se vi è piaciuto come sempre vi invito a mettere un bel mi piace commentate per farmi sapere come la pensate sullo sport perché io vorrei vedere veramente qualcuno che ha il coraggio di venire sulla pagina facebook di scazzo moderato e dire no è giusto che i trans vadano a competere contro le donne i trans nati maschi che vadano a competere contro le donne nate femmine e detto questo come sempre anche vi invito a fare una bella condivisione così magari qualcuno ci fa una pensatina sopra perché penso che ci sia un bel po' di gente che ha bisogno di ragionare il concetto di ragionamento è completamente svanito ormai ci vediamo al prossimo video stati informati ciao